I migranti irregolari che venissero rintracciati sul territorio del Friuli Venezia Giulia verranno messi in quarantena in via precauzionale, come richiesto dalla Regione che ha ricevuto l'ok del Governo. Lo ha detto il Governatore Massimiliano Fedriga poco prima dell'incontro a Udine con i sindaci della Regione convocato sull'emergenza coronavirus, un vertice che ha permesso di chiarire alcuni punti fermi, come il potenziamento delle strutture sanitarie dedicate a prevenire e contrastare la diffusione del virus. Abbiamo messo in campo misure per il contenimento anche attivando percorsi specifici all'interno delle strutture sanitarie, abbiamo potenziato il NUE e stiamo potenziando l'infettivologia. In particolare in tutte le sedi del pronto soccorso in Regione si stanno allestendo tende per creare un percorso dedicato al problema coronavirus, come spiega il Vice Governatore Riccardi. Rispetto alle tende stiamo cercando di allestire fuori dei pronti soccorsi delle strutture in grado di poter ospitare un possibile aumento di presenza all'interno dei nostri pronti soccorsi. Mutuiamo delle esperienze che stanno realizzando anche nelle altre regioni italiane. In questi giorni le chiamate al numero unico 112 si sono moltiplicate, per questo la Regione ha deciso di attivare anche il numero verde solo per chiedere informazioni sulla patologia. Un aumento comunque esponenziale rispetto alle due chiamate dei giorni precedenti, la diffusione del virus in Italia. Invece per quanto riguarda il NUE abbiamo già potenziato il NUE con la presenza di un infermiere specialistico che possa quindi rispondere dedicatamente alla questione sanitaria e quindi nel caso dare le risposte oppure trasferire all'infettivologia per i casi che sono ritenuti di maggior approfondimento. Oggi è stato aperto il nuovo numero verde. Fedriga ha anche risposto alle perplessità espresse dal governo di Lubiana per la decisione di collocare uno dei due centri per l'eventuale isolamento dei pazienti nella zona di Lazzaretto a Muggia, proprio a ridosso del confine. Io non vedo lo sconcerto di una cosa del genere, sono strutture sanitariamente controllate, adeguate. Noi lo facciamo per tutelare la nostra popolazione e le persone che lì vi risiedono, se qualcuno ha sconcerto perché è in Lazzaretto, mi auguro che sia stata una malinterpretazione della traduzione.